Nel 1978 io avevo cinque anni più o meno, i miei mi portarono d'estate ad assistere a questa rappresentazione del Teatro Povero di Montichiello che quell'anno era su Davide Lazzaretti. Io rimasi impressionato dallo spettacolo perché mi sembrò un po' una rappresentazione della vita di Cristo. Io per mio conto sarò oscuro al mondo fino che Italia non sarà in gran lutto e allora mi vedranno dall'Appennino calar come Mosè d'Alsina in monte e portar pace e riformar le leggi. E sui quindici lustri di mia vita morirò compianto da tutta Italia. Il Monte Amiata è il maggiore rilievo del sud della Toscana. Nella sua parte sud-est separa le province di Siena e di Grosseto, sul versante meridionale ci introduce verso la Maremma. Proprio su questo versante, un'altura minore, il Monte Labro, un accumulo di lave vulcaniche con pochi arbusti e pochissima terra a coltivare, fu il teatro delle vicende di Davide Lazzaretti e della sua comunità. Davide Lazzaretti nacque ad Arcidosso sul Monte Amiata il 6 novembre 1834. Da famiglia di carrettieri barrocciai, cioè garantivano il trasporto di merci da e per Arcidosso spingendosi fino a Roma e Firenze. Nella primavera del 1848, questo ragazzo che aveva 14 anni, gli appare un vegliardo, una persona molto molto anziana, grandi lunghi capelli bianchi, barbona bianca, vestito con una tunica tipo frate. E semplicemente gli disse, la tua vita è un mistero che un giorno ti sarà svelato e sparisce. E' un mondo, questo Amiatino, ancora strettamente legato all'agricoltura e alle vicende dell'allevamento. Con il consueto corollario di artigiani, che all'epoca venivano chiamati artisti, cioè muratori, falegnami, barrocciai, Davide stesso inizialmente era un barrocciaio. Chi ha piccolissimi appezzamenti di terreno non riesce a camparci assolutamente, per cui integra queste magre risorse che ha con altrettanto magre entrate da lavoro come bracciante oppure facendo il mezzadro per altri. Spesso vanno anche in maremma, come si diceva una volta, per i lavori stagionali oppure dietro agli animali transumanti e il 20, a volte il 50%, ritornano con la malaria. La conversione avviene in maniera abbastanza improvvisa nel 1868. Quando Davide è nelle colline giù della maremma si sente male, si vede delle febbri molto alte, degli stati di deliquio e Davide ha delle visioni, ha delle visioni confuse per ora. A un certo punto, in lontananza, vede arrivare una barchettina a vela, un guscio di noce proprio, e in piedi su questa barca c'è quel vegliardo che gli era apparso nel 48, praticamente vent'anni prima. Alzati uomo, sono stati rimessi i tuoi peccati. Per ora è duopo che ti ritiri con la tua famiglia, e in seguito quello che dovrai fare, da te stesso lo conoscerai. Poi dal mare viene fuori un mostro, un mostro marino, una cosa terrificante. Se non che a quel punto dall'interno, dalla pineta, si lancia contro questo mostro un leone, ma non un leone normale, un leonone, un leone enorme. E si butta addosso a questo mostro marino, e c'è proprio una lotta tremenda, e poi Davide si sveglia e rimane un po' sconvolto. Queste febbre di malaria lo portarono a avere delle visioni, che queste visioni lo portarono a fare questo ritiro in una grotta della Sabina, dove tornò dopo 40 giorni con questa sua logica di socialista dell'epoca, quella del concetto tutti lavorare, mettere all'ammasso, e ognuno prendere secondo il proprio fabbisogno. Lazzaretti, quando era in questa grotta di Montorio Romano, in una notte di tempesta tremendo tutto sconquassava, gli appare San Pietro, lo rinfranca, vi dice delle cose, e come per magia, diciamo, per il prodigio, gli viene fatto questo marchio, vi dice proprio una cicatrice che poi rileverà post-mortem anche l'ombroso, che si studiò il cranio dell'Azzaretti, no? Proprio parla di una cicatrice come se fosse fatta a fuoco. Successivamente comincia invece ad avere visioni di Santi, la Madonna, San Pietro. Gli viene dato l'ordine perentorio di dedicarsi a questa predicazione che per ora, cioè che per tutto il 68, fu solo di carattere morale. Io non ho chi mi protegga dal mio operato, solo che Dio. La mia penna scrive la verità, e se ciò vi dico, ve lo dico solo per il vostro e per il mio bene. Anzi, per il bene di tutti. Le visioni di Davide Lazzaretti che Davide trascriveva sono abbastanza interessanti dal punto di vista della lettura. Visioni che sono frutto di una lunga astinenza, periodi anche di non alimentazione o isolamento completo, o prodotti da altre cose, perché accompagnati da febbre e da stati allucinatori, che appunto lo stesso Davide descrive. E' proprio una predicazione di tipo moralista, cioè dovete pentirvi, dovete smettere di andare nell'osterie, di vibriacavi, di picchi alla moglie, dovete pregare, pregare. Tutta la gente comincia veramente a sentire il suo messaggio, a sentire l'importanza della sua parola e a spingerlo. Davide dici, Davide parlaci. Ecco che allora la figura di predicatore è istituzionalizzata, e sempre di più questa gente gli si fa intorno e pende dalle sue labbra. Poi però in effetti lui comincia ad avere un po' di difficoltà in Arcidosso, non tutti sono d'accordo con lui, e quindi decide di trasferire il centro della sua predicazione sul Monte Labbro, dove naturalmente non c'era niente, c'era solo quella piccola grotta che c'è dentro una non assorgente, stilla dell'acqua, lui la raccoglieva e stava nella grotta. C'era chi sosteneva che questa montagna fosse già una tomba etrusca. Non a caso sulla sommità c'è una grotta affascinante, dove Davide Laggioretti faceva meditazione. È una grotta che si scende una quarantina di metri nel sottosuolo, che anche oggi è conservata in maniera integra. Lascia il mestiere di barrocciaio e compra un terreno alle pendici del Monte Labbro e si mette lì a lavorarlo, oltretutto era pieno di una sassicaia, per cui prima di tutto c'era da sgombrarlo dai sassi. E lui era lì che lavorava, arrivò un sacco di gente, Davide parla, Davide dice, io bambini, io vi dico anche, ma qui io sono da lavorare, quando ho finito, c'è una famiglia. Dice, ti si lavora noi. Dice, va bene, io accetto che voi lavoriate per me, ma non più di un'ora per persona. Oh, la mattina si presentò quasi in centinaia di persone, te lo capisci, in un'ora fecero un lavoro di cento ore, non solo. Poi si raccoltero tutti intorno a lui e lui predicò. Io prendo da voi quest'opera di carità solo per gratuire il vostro buon cuore e me ne approfitto al sol scopo d'anticipare maggior tempo per poter più a lungo propagare la mia parola e i miei scritti. Questo campo dove voi mi avete dato testimonianza del vostro buon cuore d'orinnanzi sarà chiamato il campo di Cristo. Questa montagna, il Montelabro, è una conformazione particolare. Si usava a raccontare che doveva diventare una specie di torre di babele per Davide Lazretti. Tutti i seguaci che salivano sul Montelabro dovevano portare una pietra. È una montagna che ha un carisma particolare sia per la sua situazione geografica che mineraria, perché ci sono i tre minerali essenziali dell'alchimia, oro, argento e cinabro. Se uno attraverso un momento di depressione o sovleccitamento va sul Montelabro è come una pila. Se sei carico ti scarica, se sei troppo carico ti normalizza. Successivamente viene dato mano alla costruzione di una palazzina a due piani, detta all'eremo. A fianco viene costruita una chiesetta che, a dimostrazione del fatto che all'inizio la chiesa non lo contrastava, fu consacrata dal Vescovo. La chiesa aveva bisogno di personaggi di questo tipo perché erano personaggi che in qualche maniera ravvivavano la fede cattolica e in qualche modo potevano rappresentare un ostacolo, una barriera contro la volontà dello Stato Unitario di conquistare Roma e quindi di ridurre il potere della chiesa. In questo contesto, d'altra parte, David viaggiava spesso. Sembra quasi, come dire, cercare altre sponde oltre Montelabro. Da vario tempo io viaggio per il mondo, studiando il movimento e le tendenze dei popoli e la maniera con cui i religiosi trattano gli affari dell'esercizio del loro potere. Come rimedio a questa situazione io propongo l'istituzione di una società generale di soccorso e beneficenza, basata su principi dell'amore, della carità e della giustizia. Nei primi anni 70 Davide Lazzaretti costituì la Società delle Famiglie Cristiane che rappresenta la prima forma di cooperazione di tutto il territorio ematino ma anche di tutte le province di Siena e di Grosseto, forse della prima esperienza da Toscana. Un elemento interessante della società fu la presenza delle donne che avevano diritto di voto e partecipavano alla direzione di questa società. Quest'istituto, Pia Unione di Cristiane di ogni classe e condizione, non viene fondato, fratelli carissimi, per volere dell'uomo, ma per volere di Dio. La Società delle Famiglie Cristiane aveva l'obiettivo di mettere insieme le proprietà e costituire anche una cooperativa di consumo con l'acquisto diretto dei prodotti per la vendita diretta ai soci, di istituire delle scuole per l'educazione dei figli dei soci e naturalmente l'aspetto religioso poi era fondamentale perché sopra la scima del Montelabro la comunità poi partecipava complessivamente anche alle attività religiose e gli edifici costruiti sul Montelabro servivano proprio ad accogliere tutti questi fedeli e a dargli la possibilità di incontrarsi. Tutti i beni che venivano conferiti alla società erano intestati a una persona fisica, il fattore, che si chiamava Tognoni. E questo Tognoni, approfittando della prolungata assenza di Davide, praticamente fece come se fosse roba sua la vendetta e prese quattrini. E quindi sta gente si trovò sull'astico e quando Davide lo viene a sapere torna giù con delle prediche accaloratissime. Io ho visto anche una lettera autografa di Lazzaretti e Altonioni che gli dice le peggio cose. Cioè vedrete che strumento posso essere io ammaestrato dalla vostra disonestà e dalla vostra cattiveria. bello, forte. A questo punto l'unica cosa è firmare delle cambiali per cercare di riaprire questi soldi in prestito e poi queste cambiali, tra parentesi, verranno tutte quante da ciascuno di loro tramite il lavoro onorato. Se nell'alveare un'ape dicesse, il miele che qui è tutto mio e facesse il piacere suo dei frutti del lavoro comune, che sarebbe delle altre. E la terra è come un grande alveare e gli uomini sono come le api. Ciascun'ape ha diritto alla parte di miele necessaria alla vita sua. Questa gente che aveva così necessità quasi di sentire la sua predicazione, di attenersi, che tipo di gente era? Erano contadini. L'operaio, il bracciante, chi ha, diciamo, come controparte, con chi se la piglia? Se la piglia col padrone. È il padrone che gli affama, è il padrone che gli sfrutta, è il contadino che ha il suo pezzettino di terra, con chi se la piglia? Il padrone non ce l'ha. L'unica risposta veniva dall'alto, no? È il Signore o chi per esso che manda la buona stagione o la brutta stagione. E ecco allora il messaggio di David che li porta, se vogliamo, un gradinino più in su verso il contatto con la divinità. e allora loro tutta questo fervore, perché, madonna, sta a vedere che se si fa in questo modo viene un pochino meglio la stagione, viene l'inverno quando deve venire, viene la bella estate, le messi, le cose. I contadini che vivevano in queste zone, se volevano avere le funzioni religiose, si dovevano spostare fino a Arci d'Osso. Era una zona priva del conforto religioso. Il Vescovo di Montefiascone, d'Intessa col Vescovo di Montalcino, mandano questi due frati filippini che erano del convento di Gradoli. Li manda su per dargli una mano a gestire la parte religiosa, di dire messa e tutto quanto. Sia Polverini che Imperiuzzi, nell'andare avanti della predicazione di Davide, si fanno invece che restare come baluardi della fede cattolica e della volontà dei Vescovi, si fanno fortemente sostenitori delle nuove teorie religiose del Lazzaretti. Quando lui parte, i suoi vari viaggi a Torino, in Francia, loro mantengono coesa la comunità. L'autonomia creativa di Davide non si può mettere in discussione. E questo è forse il motivo che gli procurò l'avversione di tutti i partiti politici del tempo e della Chiesa. Il Lazzarettismo era un sogno che non poteva diventare un progetto politico, ma era nello stesso tempo un segno che i cambiamenti potevano avvenire. E questo forse faceva un po' troppo paura. Chi disse in cuor suo io non sono quale gli altri uomini, ma gli altri uomini mi sono dati perché io comandi e governi le persone, le cose loro a mio capriccio. Quegli è figliolo di Satana. E Satana è il re di questo mondo perché è il re di quelli che pensano e fanno così e che divennero per i suoi consigli signori del mondo. Ma il loro imperio è a tempo e noi siamo a questo tempo alla fine. Dopo aver avuto nelle sue visioni l'apparizione tantissime volte della Madonna, Davide viene ammesso alla presenza stessa di Dio. Dio è proprio scoraggiato, è proprio offeso col genere umano che è troppo addeviato dalla retta via e sta seriamente pensando di mandare un altro bel diluvio, questa volta però non di acqua, di fuoco. E Davide gli dice no Signore, Dio non lo fare, non lo fare perché c'è sempre del buono nella natura umana. Mi rendo conto che occorre un nuovo sacrificio, ma io mi offro, io sono la vittima, io sono l'agnello di Dio, io sono quello che sconterà la cambiale di sangue di Gesù per la redenzione del genere umano. Non so se avete presente lo stemma giuris davidico, la croce è il sacrificio, le due C sono il Cristo in prima venuta e il Cristo in seconda venuta, Davide Razzeretti. Io sento anticipatamente la felicità della gloria celeste del paradiso. Voi tutti morti, ma non morirete, no. Io solo sarò quella prima vittima consacrata all'amore della patria e della fede. Nel 1878 Davide Lazzaretti fu chiamato a Roma per subire un processo dalla congregazione del Santo Uffizio. sono interessati soprattutto a sapere appunto della società delle famiglie cristiane, i contatti avuti da Davide Lazzaretti in Francia perché si teme che abbia avuto rapporti con gruppi anarchici, gruppi comunisti o gruppi protestanti su queste o gruppi eretici e su questo soprattutto sono postate le domande. A domande del tipo Davide Lazzaretti, vi rendete conto che la vostra teoria che prevede la seconda venuta del Cristo è totalmente contraria alla dottrina della Chiesa? Sì, volete pentirvi di aver detto questo? Sì, però bisogna che faccia notare che io l'ho detto perché mi è stato ordinato. Poi c'è tutta la requisitoria e lo convincono a viurare e comunque loro riordinano di scrivere una bella letterina a Montelabro. Carissimi fratelli Polverini e Imperiuzzi, essendo io figlio obbediente della Chiesa, mi sono sottomesso al suo giudizio per cui per quel male che la Chiesa giudica che avete fatto a mia ingiunzione vi esorto a ritornare all'obbedienza della Chiesa e alla sottomissione al vostro Vescovo. In realtà la lettera viene scritta in un momento in cui Davide è ormai convinto che la possibilità di dialogo con la Commissione del Santo Uffizio non abbia sbocchi. Appena andato via da Roma ritorna poi in Francia e dopo poco ritorna di nuovo su Montelabro dove inizia questa nuova predicazione molto più forte dai connotati sociali molto più ampi e dove è ora Davide a dire che è la Chiesa di Roma che sbaglia e quindi si apre questa frattura ormai netta e non solubile. Il primo di luglio del 1878 torna al monte accolto da tutto il popolo sannante e si era fatto venire perché in Francia l'ha trovato un protettore e finanziatore pezze e pezze di stoffe con cui dovevano essere confezionati i costumi che sarebbero stati indossati nel corso di una solenne processione che Davide stava organizzando chiamandola come la manifestazione al popolo latino non era previsto nessuna arma anche i coltellini che tutti portavano in tasca per affettarsi il pane e li fece posare tutti Figlioli e fratelli miei carissimi oggi si va la mia e la vostra infelice patria Natia la quale si messa in temenza che io quest'oggi debba andare con una comitiva di masnadieri per saccheggiarla per cui alcuni si sono rinserrati e hanno sbarrato le porte e le finestre voi non temete la vittima è già fatta io solo sarò questa prima vittima consacrata all'amore della patria e della fede Sembra che circa 3.000 persone abbiano partecipato alla processione del 18 agosto del 1878 provenienti da molti forze curiosi provenienti dalle vallate vicine da Santa Fiora da Bagnole da villaggi intorno ad Arcidosso oltre che i fedeli di Davide Lazzaretti che marciavano la testa quando la processione arrivò a Arcidosso i grandi proprietari terrieri chiamarono l'intervento delle forze dell'ordine perché avevano paura che la manifestazione di Davide Lazzaretti piuttosto che la manifestazione religiosa fosse una manifestazione di carattere politica lì proprio all'imbo fuori dal paese c'è un un cordone di sicurezza il brigadiere Caimi fa un con lo schioppo in mano fa un passo avanti e gli dice Davide Lazzaretti retrocedi e sciogli il complotto Davide si volta verso uno standardo con le due C e dice no io vado avanti vado avanti perché mi è stato ordinato e lui ancora gli dà l'intimazione Davide Lazzaretti retrocedi o ti faccio fuoco addosso e Davide dice io vado avanti nel nome di Cristo Duce e Giudice e se volete la pace porto la pace se vogliono la misericordia avranno sei il sangue ecco il mio petto pronto a versarlo per l'amore di Cristo sparate a me e risparmiate il mio popolo il De Luca mette lo schioppo in spalla clic e fa cilecca brigadiere Caimi lo stesso mette in posizione il fucile spara e gli fa cilecca allora dice l'imperiuzzi un soldato che dovrebbe essere questo bersagliere carabiniere Antonio Pellegrini prende bene la mira e proferendo un'atroce bestemmia rivolta alla madre di Dio Maria Santissima fa fuoco di Dio ne 130 anni trascorsi dalla tragica fine di Davide Razzaretti molti studiosi si sono interessati della sua esperienza una particolare suggestione ci viene da pochissime righe di Ernesto Valducci si potrebbe anche dire come alcuni dissero allora che la breve intensa storia svoltasi sul Monte Labbro non fu che un'esplosione di follia collettiva partorita da uomini e da donne denutriti e perciò più esposte alle allucinazioni ma se si dà il giusto peso al dispendio di generosità morale che stava dietro a quelle allucinazioni si sarebbe tentati di dire che sul Monte Labbro soffiò un vento carico di polline molto più che quello che animò la retorica patriottica di cui ci parlano ancora malinconicamente i monumenti il rudere della torre di David nella sua solitudine ci narra del fallimento di uomini estranei alla storia solo perché la loro sorte fu di portare il peso della sua iniquità e di contrastarla con sogni smodati come la loro miseria Lazzaretti è stato definito sì un pazzo visionario forse Lazzaretti un po' pazzo lo era una sorta di nuovo San Francesco una persona che contro tutti predicava la povertà ed era vicino agli umili ai poveri e questo suo essere così e finire in maniera violenta quindi con una morte durante una processione in difesa dei più deboli è una cosa che mi affascina un eroe insomma come tutti gli eroi affascinati il disco dei Baustelli si chiama I Mistici dell'Occidente abbiamo voluto mettere un quadro con la foto di Davide Lazzaretti proprio perché Davide Lazzaretti è un mistico dell'Occidente è una persona che non si fermava alla verità che gli veniva propinata dal sistema delle cose che ti stava intorno di Davide Lazzaretti 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 di Davide Lazzaretti